Potrebbe essere una fuga d'amore l'evasione di Vito Gassi, il 29enne di Trigiano, che sabato scorso è riuscito a scappare dal carcere di Lecce. L'uomo, detenuto nel reparto di osservazione psichiatrica della casa circondariale di Borgo San Nicola per una condanna legata a una rapina a mano armata, è riuscito a scavalcare le inferriate della struttura e a far perdere le proprie tracce. Ma il mistero si infittisce. Secondo le ultime indiscrezioni, Gassi potrebbe non essere solo. Si sospetta che ad accompagnarlo ci sia la moglie Erika, una giovane di 24 anni, originaria di Grottaglie, con la quale si è sposato una settimana fa, proprio all'interno della casa circondariale leccese. E potrebbe essere stata proprio la donna ad averlo agevolato nella fuga e i due potrebbero stare ancora insieme. Gassi è fuggito con le ciabatte, perse o abbandonate volutamente per strada. Ha raggiunto poi il centro di Lecce con una bicicletta sottratta da due ragazzi extracomunitari ospiti presso Masseria Ghermi, dirigendosi verso il terminal degli autobus, salendo poi su un pullman diretto a Casarano, e sarebbe stato visto scendere a parabita. Le ricerche sono in corso da parte degli agenti del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria regionale, che nelle scorse ore ha ispezionato l'abitazione della donna, senza però trovare elementi utili. Nel frattempo i droni sorvolano varie zone. Nel passato di Vito Gassi non mancano episodi simili. In precedenza, infatti, era stato arrestato per aver violato i domiciliari per raggiungere un'altra donna. Anche questa volta sembra che l'amore sia il filo conduttore della sua evasione. Sabato scorso, infatti, Gassi aveva da poco terminato un colloquio con la moglie Erika, prima di mettere in atto il piano di fuga, probabilmente già organizzato nei dettagli.